Il Covid non va in vacanza, il Covid non conosce frontiere, non si ferma, non nel 2021, non ancora, non adesso. Non è questo l'anno della auspicata rinascita e l'epidemia è costata cara non solo in termini di vite, di dolore, ma anche di spese. Il Covid ha pesato per spese straordinarie per 1 miliardo 350 milioni di euro, ma è stato anche l'anno nel quale comunque si è cominciato a intravedere la luce in fondo al tunnel, ad esempio rispetto alle grandi infrastrutture, penso alla Pedemontana Veneta. Il Covid non si è arrestato, ma nemmeno il Veneto si è fermato e anche le opere strategiche non sono rimaste in stand-by. Col nuovo anno la Pedemontana Veneta verrà aperta completamente. Voglio annunciare che con i primi mesi dell'anno, proprio per scelta, apriremo, io spero, tutti i 30 chilometri, quindi il tratto che va da Montebelluna a Spreseano e l'altro tratto che arriva fino a Montecchio, sperando che entro il 2023 poi si possano avere anche direttamente gli inesti sulla 4 e sulla 27. Oggi in Italia la più grande opera in cantiere è la Pedemontana Veneta, 94 chilometri a cui si appoggiano altri 68 chilometri di viabilità a servizio di 36 comuni con 14 caselli. È l'opera che cambierà la vita al Veneto e chi ha già avuto modo di utilizzarla o chi vive in quei territori e ha già apprezzato il grande giovamento che comunque sta già dando nonostante sia ancora un'incompiuta perché di fatto ad oggi sono aperti quasi una settantina di chilometri. Però il fatto di pensare a questa infrastruttura che si va a completare nel 2022 per noi significa ovviamente nuova linfa a dei territori.